Paolo! I ragazzi che stanno arrivando adesso vengono dalla Puglia sono un quartetto di giovani che proprio su questa rete hanno vinto la prima edizione di X Factor pensate che un loro componente era uno dei miei ragazzi che hanno cantato qui a Teleton qualche edizione fa hanno scelto di interpretare un grande successo degli Abba e quindi ascoltiamoci Mamma mia! Era il titolo del brano, sbagliato Yaram Quartet Mamma mia! Grazie! Grazie! Mamma mia! 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 Here I go again! Here I go again! Mamma mia! How can I resist you? Mamma mia! Does it show again? Mamma mia! Here I go again! Mamma mia! How can I? How can I resist you? Mamma mia! 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 S Aurio con rheolico e Tanei e non reality and just the poor boy and he knows it because I'm easy come, easy go little high, little low any way that will pass doesn't really matter to me to me 548 548 thank you